Siamo stati un po' sfortunati, ci siamo ripresi in Coppa Italia, abbiamo fatto, secondo me, un'ottima gara, cerchiamo di dare continuità e veniamo qui per cercare di fare risultato, cercare di far bene, cercare di ritrovare quella fame, quella voglia che ci è mancata forse nell'ultima partita. Ballardini poteva essere il vostro allenatore, poi un ripensamento nella notte ed è arrivato Pioli, questo vi dà uno stimolo in più anche per fargli vedere che era una squadra in grado di salvarsi Ballardini? Secondo il mio punto di vista non dobbiamo dare importanza a questa cosa qua, No, noi abbiamo mister Pioli che è un ottimo mister, siamo contenti di lui, Ballardini spero che faccia un ottimo campionato con Cagliari, però noi pensiamo a Pioli e pensiamo di far bene per noi e non di sicuro per Ballardini. Nello tuo personale è una chance importante? Sì, una chance importante, spero di far bene, spero di avere un'opportunità per riconquistarmi il posto e come tutti farò di tutto per cominciare questa cosa qua.